È il nemico numero uno dei cittadini di Quinto Decimo, frazione di Acquasantaterme. È già perché in teoria lui, l'autovelox, servirebbe a regolare la velocità delle vetture, ma a ben guardare il bilancio del comune, sembrerebbe che la sua funzione sia quella di rimpinzare le casse dell'amministrazione, svuotando invece le tasche dei cittadini. Stiamo parlando di questa macchinetta sistemata in un punto dove è quasi impossibile non prendere una multa. Il limite imposto è infatti dei 50, ma ci troviamo all'ingresso del paesino e sono tanti, fin troppi, i malcapitati che, viaggiando a velocità di 60-65 km orari, sono stati inondati di sanzioni. Questa prassi è confermata dalla stessa amministrazione di Acquasantaterme. Basti pensare che in soli tre mesi, e quindi da settembre e dicembre, l'autovelox ha fruttato al comune qualcosa come 175.500 euro. Una cifra spropositata, conseguita con i soldi di persone che non sono pirati della strada e che, superando di poco il limite di velocità, sono state multate. Io sono una delle vittime di queste multe, abbastanza sostanziose, diciamo, sulle 180, non solo, di euro, più 5 punti. Io svolgo un'attività commerciale, per cui ho anche una certa clientela di Roma, che c'è una lamentaria generale per raggiungere Acquasantata. Mi sembra una cosa eccessiva, e questo è dovuto al fatto che in quel punto è veramente difficile andare a 50. Posso dire che l'autovelox, visto da un senso positivo, penso che sia anche una sicurezza per noi. Insomma, l'appello è uno solo. Va bene andar piano, ma le multe troppo salate per un eccesso di velocità irrisoria sono un prezzo che i cittadini eviterebbero di pagare ben volentieri.